Ciao a tutti, attraverso le nostre domande e risposte, in questo caso il nostro amico Rogerio nos pregunta qual è il tempo e la temperatura per fare una pasta di frutti secchi. già parlavamo in un altro video sempre come baixare il prezzo della pasta di pistacchi, e l'unica forma è comprare un pistacchi facendo la nostra pasta, ossia non comprare la pasta pronta, ovviamente precisiamo di macchinari e tal. E ovviamente per creare la nostra pasta di frutti secchi, precisiamo comprare la frutta e torrarla. Ora, diciamo che più o meno la temperatura per tutti i frutti secchi è di 160-180 gradi centigrado. Ora, il tempo di torrarla, questo dependerà di varie cose. Prima, che tipo di frutta stiamo torrando? Per esempio, nel caso dell'avelà, possiamo tirare non solo la casca dura, ma anche quella pelle marrone. Conseguiamo tirare facilmente. Quindi, diciamo che un'avelà possiamo torrar per circa 10-14 minuti a 170 gradi. Per dare una buona torra, un buon d'orato, ben d'orato. Ora, il pistaccio, per esempio, ha dato che la pelle all'avelà non può tirare. È quasi impossibile, possiamo tirare un pochino, ma è quasi impossibile. Il tutto che è conteso è che, se facciamo, per esempio, il pistaccio, se la 12-14-15 minuti, ha una temperatura, ripeto, di entre 160-180 gradi. Il rischio molto alto è che, questo dependerà anche dal forno, perché con una macchina di sorveggio, cada forno funziona di una forma differente. Ma il rischio molto alto sarà che abbiamo chiamato la pelle. Una vecchia, ripeto, non da per la cirella. E quando facciamo la nostra pasta, avremo un retrogosto fino al medio amargo. Il pistaccio, io consiglio di 7-12 minuti, al massimo. Ovviamente, più torriamo, dopo il frutto seco, più teremo un sabato, possiamo dire, più intenso nel comienzo. Per lo meno, è quello che ho percebi. Una torra più clara, meno tempo, diciamo, nos dà un sabato un pochino più fracco, un pochino più prolungato. Una torra più forte, una cor da frutta un pochino più dorata, ci darà un sabato abbastanza forte nel comienzo, ma che tendrà a svanciare più rapido. E questo è, diciamo, a desaparecere più rapido. E questo è un po' la differenza. Ok? Amendoa, anche, più o meno come l'avellano, dobbiamo tirare la pelle, lembrando. Esistono già amendoa senza pelle. O poter comprare quella facciata, anche quella amendoa facciata che già è senza pelle. E poi torriamo un po' meno, perché è così fina che torra più rapido. Il tempo, quindi, un po' meno. Ok? Buon, questa è la mia risposta a queste domande. Ci vediamo in prossima. Ciao, gente! Ciao, gente! Ciao, gente!